Benvenuti amici ed amiche sul nostro canale. Oggi facciamo due risate. Gianni Aman si mostra sensuale più che mai nella nuova casa e chi lo apprezza? Valeria Marini. Gianni Aman ha trovato una nuova casa a Roma dopo essere stato costretto a cambiare indirizzo per preservare la propria privacy dall'invadienza eccessiva delle fan. Qui l'attore turco si diletta con il barbecue e Valeria Marini apprezza lo scatto postato su Instagram. Dopo diversi giorni in giro per l'Italia, la Turchia, Monte Carlo, Gianni Aman è tornato a Roma e ha deciso di concedersi un po' di tempo per rilassarsi tra un allenamento e l'altro in palestra per ottenere la forma fisica perfetta in vista del suo impegno sul set di Sandokan e della serie TV targata Disney+. È il turco, dove potrebbe non esserci però la sua partner Handel Ersel. Dopo aver ammesso di sentirsi oppresso a causa del troppo entusiasmo di alcune fan che hanno sediato notte e giorno alla sua casa nella capitale per mesi e mesi, Gianni ha deciso di cambiare dimora e ha optato per una villetta ultramoderna ma lontana da occhi indiscreti. In questi giorni, felice per il trasloco, Gianni Aman ha mostrato qualche scorcio della sua vita da single nella nuova casa postando scatti che lo ritraggono in compagnia di un buon liquore e del sigaro mentre guarda nuovi film, prendendo ispirazione dai colleghi per i suoi prossimi incarichi sul set. Pochissime ore fa l'attore Turco si è lasciato immortalare da un atto scatto mentre intenta a darsi da fare al barbecue, cucinando salmone e patate come un vero cuoco ma senza veli. Gianni è vestito solamente da un pantaloncino che mette in risalto le lunghe sessioni di palestra e il pubblico apprezza, come anche Valeria Marini. La stellare showgirl sparge amore su Instagram incoraggiando i volti noti dello showbiz con parole gentili e commenti dolcissimi. Questa volta è toccato a Gian ricevere l'apprezzamento di Valeria che ha lasciato all'attore i suoi famosi baci stellari. E cosa può pretendere di più anche questa enorme attenzione? Amici continuate a mettermi like e iscrivervi al canale perché le prossime news si presentano molto interessanti. Al prossimo video!